Lucia Marisa. Presente. Stefania Priti. Presente. Barbara Stresa. Barbara Stresa. Senta professore. Sì, dica. Come mai hai scritto una canzone con delle strane parole che non dicono niente? Lei. Chi? Lei. Beh, vede ragazza, qual è la mia percama? È questa. Io ho capito che oggi nel mondo non ci capiamo più, proprio è difficile, non c'è dialogo, è rimasto solo lo sguardo, un po' fritto, e quindi ho ritenuto opportuno fare una canzone sul tema, cioè sviluppando il tema dell'incomunicabilità. Cioè, noi non comunichiamo, siamo incominci. Cresce, che era una vecchia cosa del telegiornale che c'era anche prima, adesso lo faccio. No, stia in piedi, per favore che non ho finito di parlare. E stavo dicendo che ho voluto sviluppare questo tema dell'incomunicabilità lasciando come riferimento una sola parola, che è appunto, che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso qualcuno, non c'è rimasto più nessuno, sono solo io, basta che diciate Prisa e ricordi nel silenzio, tutto. Vado giù. Adesso, voglio vedere se siete appunto preparati su questa cosa. Vado giù. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.